Lunghe code di visitatori già stamane alla diciassettesima edizione di Orticola, la mostra mercato di piante e fiori che si svolge ai giardini montanelli di via Palestro a Milano. La manifestazione resterà aperta sino a domenica sera. Piante di tutti i tipi e tantissimi fiori, un arcobaleno di colori con rose antiche di tutte le varietà. Anziani, giovani, famiglie per vedere, per curiosare, per acquistare. 8 euro il biglietto d'ingresso. Il ricavato verrà indirizzato alla riqualificazione del verde pubblico milanese. Numerose anche le piante da frutto. Qui vediamo stupendi esemplari di cedro dalle forme più strane e coinvolgenti. Mi sembra che c'è tanta gente, vedo tanti carrelli pieni di piante che escono quindi mi sembra bene. In cosa si punta particolarmente quest'anno? C'è un qualche cosa, una attrazione particolare? Uno quest'anno sono le rose. Rose che vanno dalla Cina fino alla California, dalla Germania fino ai posti molto più meridionali. Certe rarissime, molto per amatori, però poi vedete uno stand come quello di Barney dove tutti possono trovare di tutto, anche le piante più attraenti e vistose. La cosa che tengo a dire moltissimo sono le piante spontanee della flora italiana che vengono riprodotte anche come piante del giardino. La si trova coltivata e con poco si può avere un angolo di paesaggio anche a casa nostra.